io vorrei dare pubblicamente riportare le alcune cose che le mamme ieri sera mi hanno detto di ringraziare il sindaco per l'attenzione che ha avuto finalmente sul parco e perché finalmente il parco non per problemi amministrativi ma per eventi che si sono sussiduti negli ultimi due o tre anni il parco non era tanto a norma della sicurezza finalmente il parco possiamo dire oggi è nelle norme di sicurezza che è vero e tutti i cittadini possono venire allora io con una stretta di mano signor drago glielo riconsegno e quindi sono sicuro che il parco ai buon anno